caro amore mio ci siamo è arrivato il nostro giorno un giorno particolare in cui si è chiusa una ciclica di vita ma in cui ne apriremo una nuova insieme siamo due solitudini che si sono incontrati in un momento apparentemente sbagliato in cui non vi era spazio in cui i tempi non coincidevano eppure non c'era altro terreno che questo perciò che si doveva realizzare così se il momento è sbagliato ma l'incontro di due anni è giusto c'è da chiedersi se l'errore del fatto non sia in realtà un modo per dare alla nostra esistenza un'occasione unica noi l'abbiamo riconosciuta facendo le spazio in quel momento caotico in cui ci accolti ci siamo scelti una scelta fatta con consapevolezza così tesseremo insieme questo mosaico e preserveremo il tempio sagro del nostro amore della nostra essenza in cui poter perdere e ricostruire il nostro equilibrio t'amo polline per la mia anima ti vedo grazie a tutti 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 grazie a tutti